Musica E ciao a tutti ragazzi di oggi siamo qui con questo nuovo video Come vedete stiamo migliorando nel villaggio Oggi andremo ad attaccare U in war Che praticamente la stiamo vincendo E oggi faremo un attacco in war come vi ho già detto E proveremo a tristellare una persona Come vedete stiamo facendo un sacco di stelle E vabbè di vittorie E siamo già a 17 vittorie Vi invito ad entrare nel clan Se arriviamo a 15 mi piace apro un clan io E allora si 15 è solo per 15 E allora ritiriamo l'oro Oggi vi voglio ringraziare anche per quello che state facendo con il mio canale 47 iscritti non sono mica pochi Adesso andiamo a vedere il villo cosa mi finisce oggi Oggi mi finiscono i domatori Che li proverò anche in war E E Proveremo a tristellare con i domatori E Ci salutano Salutate youtube Ok Ok Poi Ci stiamo portando anche Il canone a 9 che ci finisce oggi Non sono molto forte E l'altra volta Ho messo la tristella occulta al 5 Allora Non sto registrando molti video perché non ho tempo Quindi Non vi chiedo veramente scusa Perché Perché Sento che volete Praticamente Volete vedere un video Un giorno Ogni giorno E Allora Ci salutano Roberto Bevere E Ok Allora E Speriamo che ci diano quel drago Chiediamo il drago Chi Mi Da Il Drago Ah In questo clan sono diventato cocapo l'altro giorno Non me l'ho detto E ho donato Quasi mille truppe E Nell'ultimo tempo Stiamo finendo quasi un altro obiettivo Ho più rubato Elisir che oro E E Poi il nero Ci finisce tra poco Con la cosa del nero E Non so Poi cosa dovremo fare Se vi vedete qua sotto Cosa volete che vi porti Nel prossimo video Così E Così lo facciamo E Allora Ci stanno perdonando un drago Dovremmo attaccare 9 Me lo studio E Vi dico già come dovrò attaccare Con dei draghi E 20 arcieri Quindi Faremo un po' di pulizia Prima di tutto E Metteremo un arciere Per togliere le truppe Da clan Così le attireremo E gli metteremo La veleno Le due veleno Che ci doneranno Nel castello Sarà un drago Probabilmente Poi Metteremo Le fulmini In No Non lo so In questa area E Attaccheremo Da qua Facciamo un po' di pulizia Con gli arcieri Mettiamo anche Arcieri Nelle casette Perché A volte Queste ti fanno fare Il 99% Le mettiamo Tutte qua Mettiamo il re barbaro qua E Partiamo Tutto di draghi A striscia Non Tutti da una parte Perché dobbiamo anche Prendere questa difesa aerea Quindi sarà un po' difficile E Ok Ci hanno donato un drago E Veleno Veleno E parto Ok Non siamo molto Affrettati con le donazioni Però Doniamo tutti Nel clan Facciamo Tutto Con il clan E Allora Ho 3 milioni di Oro E non so come Spenderli Perché oggi mi finisce Il mortaio E il mortaio Il cannone E avrei Intenzione di mettere Una Torre dello stregone O l'altra Tesla culta Da fare al 4 Poi Mi finiscono i domatori E Non so Cosa Fare Mi sa che metterò No Che alla fine Della war Metterò I giganti All 5 E Ci si Damme Ci stanno dicendo Se vogliamo La terremoto Ok Attaccheremo con queste truppe Come avete visto Quindi con queste Abbiamo anche una mongolfiera Nel castello Che ci dovrebbe aiutare Ringraziamo Robivevere Per La terremoto E andiamo ad attaccare Ok 3 2 1 Boom Si parte Ok Come ho già detto Mettiamo arcieri Per pulire Bene Il cannone Tocca Tocca Ok Buono Togliamo Oh cavolo E' uscito Qua No 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 Questo blu è Stacca Ok Ho fatto Una cosa No No Ancora Bene Mi sa che mi effederanno Dal clan Qua Ecco E' rientro Perché Che pizza Oh eh Veramente Partiamo tutto di draghi Alla fine Quanto facciamo Facciamo Vedete Se lo metto a piccoli passi Però fa Invece Vedete Bom 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 Devo cliccare sempre Oh Mi sa che mi effederanno Mi sa che mi effederanno Da clan Bene Vabbè un buon proposito Per fare il clan Ma Non Faileremmo Mi sa Dai dai Ok Buono 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 Dovremmo farcela Non so Non so come ho messo Le fulmini L'avete visto anche voi Quindi Se Mi Esmellono Sono degli Stupidi Ok Allora Stiamo andando Stiamo andando bene L'attacco Abbiamo ancora il re barbaro Se distruggiamo Tutti Tutto E il re barbaro rimane Dovremmo farcela Perché L'anti La Antiaerea Vabbè L'aerea Ci sta distruggendo Tutti i draghi Quindi non so Veramente cosa fare Ok Drago Drago Distruggi questa Difesa Buono 3 stelle Andate Ce l'abbiamo fatta Vedremo Nell'altro attacco Di fare 3 stelle Con Lo dog Ma Non ve lo Potrò portare In live Ok Andiamo a fare Le 3 stelle Ok 3 stelle Ce l'abbiamo fatta Ok Vediamo Cosa ci dicono Ti ho fatto Il drag 3 Vabbè Niente Ci dicono Le cose Ok Grazie Ok Allora Ragazzi Io Vi saluto Lasciate I commenti In descrizione Di quello Che dovrei fare Nel prossimo video Io vi saluto E ci vediamo Nel prossimo video Ciao